Musica Ben ritrovati con l'informazione di Telecità, partiamo da Venezia dove è in visita il ministro Salvini per firmare un protocollo sulla superstrada pedemontana. La zona di Palazzo Balbi è stata blindata anche per la presenza di molti contestatori. Gli attivisti del centro sociale Morion stamane hanno simbolicamente occupato e chiuso il pontile di Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale del Veneto, in segno di protesta per la visita a Venezia del ministro dell'interno Matteo Salvini. Mentre il ministro è chiuso all'interno di una zona rossa blindata, viene spiegato in una nota, gli attivisti rivendicano il diritto a una città aperta alle politiche di accoglienza e chiusa al razzismo e alle polemiche infami fatte sulla pelle delle persone lasciate a morire in mare. Dalla mattina presto un dispiegamento notevole di polizia di Stato e locale, Carabinieri e Digos, ha circondato la chiesa e la scuola grande di San Rocco per l'incontro tra Salvini e il governatore Luca Zaia per la firma sulla pedemontana previsto in mattinata. Durante una violente alite familiare ha accoltelato il nuovo compagno dell'ex ragazza a Padova, poi è scappato con i figli minori di 6-8 anni a bordo dell'auto sottratta al nonno materno dei ragazzini, provocando poi un grave incidente nell'Ascolano. L'autore dell'aggressione e della rocambolesca fuga il 24 agosto scorso, come accertato dalla polizia di Padova, è un 24enne della comunità Sinti, ora messo in stato di fermo su disposizioni della procura di Ascoli. È stato rintracciato e identificato dagli uomini della Volanti di San Benedetto del Tronto e della stradale di Amandola all'ospedale Madonna del Soccorso, dove si trovava in forte stato di agitazione dopo l'impatto frontale con l'auto avvenuto il 29 agosto a Cupra Marittima, in cui è rimasto anche ferito uno dei due minori. Il fermo è stato disposto per le accuse di rapina aggravata dall'uso di armi, minacce gravi, lesioni personali e sottrazione di minorenni. I due figli sono stati poi riaffidati alla madre arrivata da Padova. Adesso la cronaca, vi riferiamo di un incidente avvenuto sulla 4 all'altezza di Montecchio. Andiamo a sentire. Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l'autostrada A4, qualche centinaio di metri prima dell'uscita per Montecchio Maggiore in direzione Venezia, per l'incendio di un furgone cassonato da cantiere. Illesi due occupanti, i pompieri intervenuti da Arzignano con due mezzi, hanno spento l'incendio del camioncino che l'autista è riuscito a fermare appena accortosi del fumo in cabina, riuscendo ad accostare in una piazzola di emergenza. Le fiamme hanno anche interessato una decina di metri della barriera antirumore danneggiata dalle fiamme. Sul posto il personale ausiliario dell'autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora. Sempre questa mattina, allo stesso orario, la squadra di Lonigo è intervenuta in via Orna a Brendola per lo sconto tra due auto, di cui una finita rovesciata nel fossato, feriti i due conducenti. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i due autisti, usciti autonomamente dalle vetture incidentate, erano assistiti dal personale del SUEM 118 per essere trasferiti per ulteriori accertamenti in ospedale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora. Grave incidente, ieri sera a Padova in Corsa Australia ha perso la vita un centauro. Andiamo a sentire la dinamica nel nostro servizio. Incidente in Corsa Australia, ieri sera a Padova, dove è deceduto un centauro 59enne che si è schiantato in sella alla sua moto. Lo scontro è avvenuto attorno alle 20.20, poco dopo la curva Boston, in direzione nord, in prossimità dello svincolo per l'aeroporto. Stando a una prima ricostruzione fornita dalla polizia locale intervenuta sul posto, il centauro avrebbe perso il controllo della BMW di grossa cilindrata su cui viaggiava, cadendo rovinosamente sull'asfalto, dove è rimasto esanime. Inutili tutte le manovre di primo soccorso che gli hanno praticato alcuni dei tanti automobilisti fermatisi in attesa dell'ambulanza. I sanitari giunti poco dopo non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Ivano Calore, 59 anni, residente a Selvazzano. Ancora un incidente sulla 4, un camper in fiamme nel primo pomeriggio ad Altichiero, a Padova, ha spaventato molti residenti anche per le alte fiamme che si sono sviluppate dopo questo incendio. Andiamo a sentire. Un camper in fiamme sull'autostrada 4 poco prima dell'uscita a Padova Ovest in direzione Milano ha bloccato il traffico per qualche ora nel primo pomeriggio. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia stradale. Per motivi precauzionali è stato chiuso anche il sottopasso di Altichiero. Non si registrano feriti ma le fiamme molto alte hanno preoccupato i residenti delle vicinanze che sono usciti strada per la paura. Hanno preso fuoco anche le barriere antisuono in legno. E come sempre in chiusura diamo uno sguardo al meteo. È in avvicinamento la parte più meridionale di una depressione con nucleo tra l'Europa settentrionale e la Groenlandia con arrivo di aria di origine artica che porterà a condizioni cicloniche almeno fino a lunedì. Ci saranno precipitazioni e diminuzioni delle temperature specie tra venerdì e sabato proprio in corrispondenza al passaggio tra l'estate e l'autunno nel calendario meteorologico. Grazie per la vostra attenzione. Tutto per oggi. Vi diamo appuntamento a domani per l'informazione di Telecittà. Grazie per la visione.